Gentili telespettatori, buona giornata. Tempi non maturi per l'alleanza con il PD, dice Giuseppe Conte. Quello che dovrebbe essere a capo del Movimento 5 Stelle, almeno in teoria dicono così. E così l'ex premier frena sull'attuale accordo a tutto tondo con il PD. Ma, dice, sarebbe un peccato che non si riuscissero a concordare alcuni passaggi insieme, alcuni passaggi insieme. Beh, se i 5 Stelle vogliono diventare una succursale del Partito Democratico, insomma, cosa fa? Decide il PD, i 5 Stelle diventano una sorta di dependance? Decide i 5 Stelle e il PD diventano loro una dependance? Due partiti che hanno più o meno lo stesso peso elettorale, un po' come Meloni e Salvini, tutti e due partiti più o meno si equivalgono. Che si fa? Chi prevale sull'altro? Dovrebbe prevalere quello che ha un maggior numero di elettori. Ma il PD accetterà che un giorno magari Conte comanda con i 5 Stelle anche sul PD? O Conte accetta che eletta comanda su di lui perché ha uno 0,5% in meno? Eh, comincia a diventare... diciamo che queste cose funzionano quando un partito ha il 30% e l'altro ha il 5%. Come era Salvini e Meloni prima, lui aveva il 30% e lei il 5%. O prima, quando nel PDL c'era Berlusconi col 30% e tutti gli altri avevano il 10%, l'8%, il 5%. Così funziona il capo della coalizione. Ma quando le coalizioni sono formate da partiti che più o meno hanno lo stesso peso elettorale, poi dipende dal sondaggio, c'è il sondaggio che li dà avanti, il sondaggio che li dà indietro, che fanno? Ogni settimana, secondo il sondaggio, comando io. Questa settimana guarda che quelli hanno detto che io sono in testa, quindi comando io. E la settimana dopo comanda l'altro perché il sondaggio è cambiato. Ecco, insomma. Conte sa benissimo e giudica il PD un interlocutore affidabile con cui poter ragionare. I tempi però, dice, non sono ancora maturi per poter varare un'alleanza tutto tondo. Ma lui, Conte, vorrebbe accelerare su un altro fronte, quello delle elezioni amministrative. Ci sarebbe un peccato, dice Conte, se rispetto alle consultazioni locali non si riuscisse a concordare alcuni passaggi insieme. Quindi l'Unione PD e Cinque Stelle sarà rimessa alla possibilità di coordinare l'azione per offrire a tutti i comuni e le città importanti, piccole e grandi, delle buone amministrazioni perché lo chiedono i cittadini. Dichiara proprio al Festival del Lavoro 2021 l'ex premier Conte. Il rallentamento della nascita di questa alleanza ormai è noto, anche perché in giro per l'Italia ci sono continuamente strappi ed emergenze diverse, inconciliabili, proprio tra PD e Movimento Cinque Stelle. Poi bisogna capire intanto che cosa farà questo movimento. Un nuovo movimento rimarrà come prima, si dividerà in due, Conte sarà il capo politico, il presidente, un elevato. Che che sarà? Beh, lui fa sapere, l'ex premier, che per i prossimi giorni sarà fissato un grande evento in cui verranno coinvolti tutti gli iscritti. Discuteremo del nuovo statuto, di una carta di principi e valori per dare una chiara identità politica al movimento. Ma alcuni Cinque Stelle dicono, stiamo aspettando tutti lui per capire cosa fare, a meno che cerchi di non mettere la faccia come primo atto su tante sconfitte lite con il PD. Ma ai Cinque Stelle principalmente interessa l'abolizione del secondo mandato. Ma Conte, anche se è d'accordo a cancellare questa clausola del secondo mandato, che farebbe arrivare in politica nei Cinque Stelle altri dilettanti allo sbaraglio, insomma, dopo due legislature che cominciano a capire un po' come funziona la politica, vengono mandati a casa per dare spazio ad altri che non sanno nulla di nulla. Fare il capo di persone che non sanno nulla di nulla non è proprio il massimo della vita. Quindi Conte, secondo me, anche lui è per cancellare il vincolo del secondo mandato, ma c'è l'ordine di Grillo che dice no. No, bisogna tenerlo, quello è un pilastro del movimento. Chissà perché è un pilastro del movimento, non si sa, però i grillini vogliono sentirsi dire dal Conte aboliamo il clausolo del secondo mandato, ma lui non lo può dire perché chi comanda veramente è proprio Beppe Grillo. Così questa vera e propria rifondazione di questo movimento potrebbe partire dopo l'estate per evitare di intestarsi l'esito delle amministrative come primo passo del nuovo corso. Si temono deludenti risultati a livello territoriale, dove l'asse con il PD e liberi uguali non sarà ancora consolidato. Certo nei comuni immaginare che i grillini votino con Partito Democratico e l'EU completamente con la sinistra è un po' difficile, è un po' difficile. Poi c'è la fine del rapporto con la piattaforma Rousseau che potrebbe continuare da sola in politica cercando magari con Di Battista di creare una nuova entità politica che i sondaggisti stimano intorno al 4-5% massimo. Questo 4-5% massimo potrebbe essere tolto al Movimento 5 Stelle che lo porterebbe magari a un 13-12% a favore di questo nuovo Movimento 5 Stelle o perlomeno una parte delle 5 Stelle con 4-5%. Ovviamente questa nuova entità politica non sarebbe probabilmente alleato della sinistra ma sarebbe un qualcosa a sé, a parte, un po' come il vecchio Movimento trasversale che non si allea né col centro-destra né col centro-sinistra. Quindi questo porterebbe a una perdita per il centro-sinistra di un 4-5% che è tantissimo ai fini della campagna elettorale per le prossime nuove elezioni politiche nazionali, non locali, ma anche locali. E così la piattaforma apre i propri servizi a tutte quelle formazioni civiche che si apprestano a correre alle elezioni amministrative di settembre-ottobre 2021 al fine di condividere anche attraverso i principali social network post e video promozionali per invitare la cittadinanza a partecipare alle proprie attività in vista della campagna elettorale. Per Conte sarà complicato risolvere questa cosa con Rousseau perché Rousseau sta aspettando questa piattaforma 450.000 euro di debiti, di soldi non dati, ecco. I tempi per essere poi, per diventare, per Conte, il nuovo leader dei grillini rischiano di diventare sempre più lunghi. Così come riferisce lo stesso Conte, manca un passaggio fondamentale. Il trasferimento dei dati degli iscritti da Rosso al Movimento 5 Stelle che è l'unico ed esclusivo titolare del trattamento di questi dati. Probabilmente questi dati non verranno mai dati fino a quando non vengono pagati quei 450.000 euro. Grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.